La comunità di Soveria Mannelli si arricchisce di una nuova perla della chiesa dedicata alla Madonna di Fatima che speriamo possa diventare un luogo di sempre maggiore attenzione per tutta la nostra comunità una chiesa come ha detto il nostro prete Don Roberto che è aperta a tutti e così grande dove tutti possono stare ed è una chiesa che arricchisce completa senza togliere nulla ma anzi valorizzando le chiese di San Giovanni Battista Soveria di San Michele Arcangelo a San Tommaso, della Madonna del Rosario a Colla, della Chiesa della Salute a Perillo della Chiesa della Madonna degli Abbandonati a San Tommaso e quindi questa ennesima prova di fede conferma e sottolinea la devozione della nostra comunità alla Madonna e questo è molto importante perché in tempi di crisi, in tempi di passioni tristi abbiamo bisogno di riferimenti che non tramontano e quella giornata che abbiamo oggi vissuto il 13 di maggio è una giornata densa di significati, di prospettive e di speranze grazie a tutti